Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Donna in bicicletta investita da un autocarro nella zona dell'ex zuccherificio a Fanno Ultimi ritocchi agli stabilimenti e poi si parte con la stagione balneare Ecco quanto costerà noleggiare ombrellone e sdraio A Monbaroccio torna la festa degli alberi, dei prodotti tipici locali con diverse novità A Pesero il sindaco Ricci annuncia, l'interquartieri arriverà fino all'ospedale di Muraglia La bici politana si allungherà Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fanno TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Cominciamo con la cronaca e andiamo nella zona dell'ex zuccherificio a Fanno Dove questa mattina c'è stato un incidente stradale intorno alle 8.30 In via Farragheto all'incrocio con via del Ponte Nella zona dell'ex zuccherificio Per dinamiche che sono ancora all'avvaglio della polizia locale Un autocarro condotto da un uomo di 26 anni di Fossombrone Ha urtato una bicicletta condotta da una donna fanese di 66 anni In un primo momento è stata allertata anche l'eliambulanza del Torrette di Ancona Che è atterrata in uno spiazzo poco distante Poi però è ripartita subito dopo praticamente vuota Il personale della Potes dopo aver valutato le condizioni della ciclista rimasta ferita Ha deciso di ricoverarla in codice rosso al pronto soccorso di Pesaro Per sospette fratture E le ultime notizie ci parlano di un ritorno a casa per la signora ferita già questa sera E adesso cambiamo pagina Subito per parlare dei furbetti I furbetti del cassonetto che purtroppo sono sempre in azione Questa volta nel centralissimo quartiere del Flaminio a Fano Non c'è pace sotto o meglio dentro i cassonetti Ancora oggi nonostante tutti gli appelli e le considerazioni del caso C'è chi deliberatamente ignora la raccolta differenziata Una segnalazione di un altro conferimento errato di rifiuti ci arriva dal quartiere Flaminio Dove i cassonetti lungo via Togliatti quasi di fronte all'asilo Predisposti per vetro, carta e plastica Sono stati utilizzati male da qualcuno colto da pigrizia o da qualcos'altro Nel contenitore della carta sono stati riversati innumerevoli bottiglie di plastica E vari contenitori rigidi Diverse bottiglie di vetro E diverse anche paia di scarpe e pantofole usate Addirittura anche alcune posate da tavola Di finitura diciamo un po' vintage Ora a parte le scarpe vecchie e le posate Che possono comunque essere smaltite come indifferenziato Per il resto i cassonetti diciamo giusti Erano lì a portata di mano Sia plastica che vetro Sono proprio accanto al contenitore della carta Perché dunque fare tutt'erbo un fascio Certo comprensibile ma non giustificabile Se questo nascesse dal fatto che Se per smaltire correttamente I residenti dovessero fare chilometri di percorso Ma nel caso specifico I contenitori corretti sono a pochi centimetri uno dall'altro Solo la cattiva educazione E lo scarso senso ecologista Definiscono questo ennesimo episodio Di furbetti del cassonetto Per quanto riguarda l'incendio Allo stabilimento Tontarelli Spa La procura di Ancona ha nominato Un consulente tecnico Che dovrà individuare la fonte esatta dell'innesco Che all'alba del 16 aprile scorso Ha distrutto un capannone dell'azienda di Castelfidardo Leader nella produzione di casalinghe in plastica E' il colonnello dei carabinieri Marcello Mangione Ingegnere civile dell'arma Che ha seguito tra gli altri Già una consulenza per la procura d'orica Sul caso della lanterna azzurra di Corinaldo La discoteca dove l'8 dicembre scorso Sono morti 5 minorenni e una mamma Mentre tentavano di uscire dal locale Dove era stato spruzzato peperoncino L'incarico sarà conferito Dal PM Rosario Lionello Titolare del fascicolo aperto per incendio colposo Senza però indagati A Mangione il 14 maggio La forma sarà quella dell'atto irripetibile Il consulente dovrà chiarire le cause delle fiamme L'ipotesi inizialmente vagliata Era quella di una stufetta accesa Presente nel capannone andato distrutto Dove erano raccolti i prodotti semilavorati Finiti destinati poi alla vendita Ci sarebbe stata un'autocombustione Con surriscaldamento del materiale plastico Custodito all'interno con il quale Sarebbe venuta poi a contatto E adesso apriamo la pagina Dedicata alla politica locale Alle amministrative La lista civica La Tua Fano Che sostiene la candidatura Sindaco di Lucia Tarsi Ha presentato oggi pomeriggio Alla stampa i candidati Al Consiglio Comunale Per le amministrative Puntiamo al rinnovamento Ha detto la segretaria Della lista Francesca Cecchini Che possa portare l'infa nuova A questa città Che versa ancora in grandi difficoltà Tra i presenti anche Stefano Aguzzi Il fondatore del movimento politico Che a Fano ha vinto le elezioni Per ben due volte A 17 anni di distanza Dalla sua nascita Ha detto l'attuale sindaco di Colli al Metauro La lista La Tua Fano È ancora in grado non solo di esprimere candidati E fare proposte politiche Ma anche di rappresentare la forza necessaria Per superare gli avversari In un eventuale ballottaggio E stanno facendo discutere le foto Che adesso vi mostriamo Pubblicate da Francesca Cecchini Della Tua Fano Queste foto che nei giorni scorsi Sono apparse sui social della città Qui siamo in piazza 20 Settembre A Fano E come potete vedere Sono stati rattoppati I sanpietrini mancanti con dell'asfalto Naturalmente si sono subito Indignati i cittadini Che hanno commentato la notizia Tra un po' di rabbia E un po' di stupore Tempestiva la risposta Dell'amministrazione comunale fanese Che con un comunicato Ha detto In previsione del comizio elettorale Del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini Che si terrà appunto domani giovedì Il comune ha provveduto A riparare il selciato della piazza Nei punti in cui risultava piuttosto ammalorato Il provvedimento è stato adottato In via provvisoria Su ordine della questura di Peso Urbino In attesa di un intervento definitivo Di riposizionamento dei selci instabili Già programmato e finanziato Per i prossimi giorni E c'è un'altra lista civica La nuova Fano Che torna a chiedere All'ente Ferrovie La pulizia Del tratto di linea ferroviaria dismessa Di proprietà dell'ente Rete Ferrovie italiane Che è il tratto Fano Urbino Che costeggia diverse e molte abitazioni Della città Dopo due tentativi Fatti a febbraio del 2019 Senza alcuna risposta Siamo stati costretti Ha detto Stefano Pollegioni Esponente della nuova Fano A rivolgerci al prefetto di Pesaro Sperando che si possa giungere Ad una soluzione positiva Dal quartiere di San Lazzaro In poi il tratto di ferrovia dismessa È completamente coperto Da rovi, sporcizia, insetti E animali vari Da non sottovalutare inoltre Che con l'arrivo del caldo C'è può essere appunto Anche il rischio di incendi Tra poche settimane Prenderà, almeno speriamo Ufficialmente il via La stagione balneare Oggi siamo andati a far visita A uno stabilimento Che si trova in Sassonia A Fano Anche se Dalle ultime bizze del tempo E guardando la colonnina Del termometro Non sembrerebbe Ma l'estate si avvicina Perlomeno l'apertura ufficiale Degli stabilimenti balneari Anche se nei ponti di aprile Qualcuno era già presente Ad accogliere clienti E fare i lavori Classici della riapertura Gli ombrelloni Non sono ancora stati piazzati E posizionati dai bagnini Ma i titolari delle concessioni Non sono i soli Che si sono messi in moto Anche il comune Nei tempi previsti Dopo aver ottenuto Dalla regione Marche Le tempestive autorizzazioni È sul pezzo E nei paraggi Dell'anfiteatro Rastat Da lunedì Le ruspe sono in azione Anche se dobbiamo Ancora parlare Di Sabbionia Più che di Sassonia Per il momento Questa ridistribuzione Del materiale Per ripianare Lo scalone Fatto dalle mareggiate Ha fatto sicuramente Piacere agli storici bagnini Che da anni Lottano contro l'erosione E che nel tempo Han dovuto Ridimensionare Di parecchio I loro spazi Abbiamo iniziato Un'altra odissea Purtroppo Perché si aspettava La scogliera Ma non è stata fatta Riuscirete quest'anno A mettere giù Tutte le file Ancora non lo sapete Questa è una bella domanda Non lo so Perché finché non è finito Questo lavoro Non sono in grado Di dare Diciamo Un numero preciso Devo vedere appunto Terminati i lavori Quello che si riesce Ad ottenere Che profondità ci rimane E da lì Insomma Distribuire gli ombrelloni Sicuramente Non penso Ci saranno Diciamo Differenze In più Nel senso Di avere più spiagge Rispetto all'anno scorso Speriamo che sia rimasta così Se no Insomma Che sia diminuita Mi auguro di no Per la ghiaia Sono previsti Per il momento Come è predisposto Dalla regione 3.500 metri cubi Di materiale Proveniente dal fiume E dalle cave Che saranno Riversati Sull'arenile Assieme ai quantitativi Salvati dai marosi E accatastati A ridosso dei capanni Dagli stessi bagnini Per dare alla sassonia Il giusto look Per chiamarsi tale Anche se Per la sassonia Di un decennio fa E ancora presto A parlarne E in un modo Di un altro Comunque bisogna Iniziare la stagione Questo senz'altro Ovviamente appunto Aspettiamo Che finisca il comune Che faccia un buon E bel lavoro E poi insomma Ecco Facciamo la stagione Sperando Che poi a fine stagione Come hanno detto Questa scogliera Venga partorita Sul fronte dei costi Nessuna variazione Di tariffa È prevista Pertanto l'ombrellone In prima fila Con due lettini Avrà il costo Di 650 euro Mentre per il giornaliero L'ombrellone È rimasto A 6 euro E il lettino A 7 euro Al giorno Non ci sono aumenti Quindi tranquillizziamo Tutti Perché ogni tanto Leggo qualche cosa Di strano Però no Le tariffe Andiamo avanti Con il tariffario Del 2017 2018 Per cui sia lo stagionale Che il periodico Spenderà quello Che spendeva Già nel 2017 E nel 2018 In mattinata Il generale Di brigata Fernando Antonio Nazzaro Comandante Della legione Carabinieri Marche Di Ancona Ha fatto visita Al comando provinciale Dei carabinieri Di peso rubino Poi Nazzaro Ha incontrato Il prefetto La polla E il procuratore Della repubblica Tedeschini A Monbaroccio Torna la festa Degli alberi Dei prodotti Tipici locali Gli organizzatori Annunciano Alcune novità Da oltre 30 anni Ritorna a Monbaroccio La festa degli alberi Dei prodotti Tipici locali Evento dedicato Al mondo Della natura Dei gusti All'artigianato Che per il secondo Anno consecutivo Verrà ambientato All'interno Del suggestivo Bosco Del Beato Sante Mercatini Laboratori Visite guidate Tante altre attività Verranno distribuite Nelle due giornate Dell'11 e 12 maggio Prossimi A partire Dall'inaugurazione Con la presenza Delle autorità Prevista per la prima giornata Alle ore 15 e 30 Quali sono le novità Di questa edizione? Le novità Sono tantissime Perché Abbiamo puntato A due cose In particolare Soprattutto Ai ragazzi A dei giochi antichi Non più giochi nuovi O cose tradizionali Che si trovano oggi Ma i giochi antichi Di una volta Vorremmo riscoprire Proprio in quel luogo Dove i frati francescani Hanno percorso una storia Vorremmo proprio lì Riportarci all'antichità Perché crediamo Che sia importante Fermarsi Perché le nuove tecnologie Forse ci portano Troppo A distrazioni Vorremmo riportare I nostri giovani I nostri bambini A dei giochi antichi E dei giochi tradizionali E poi abbiamo pensato Al cibo Al cibo D'eccellenza Al cibo di qualità Perché proprio in quel bosco Dobbiamo promuovere Le nostre eccellenze L'importanza dell'evento Non soltanto punta Alla scoperta della natura Alla salvaguardia E tutela dell'ambiente Ma pone anche Un obiettivo Di avvicinare E richiamare Più persone possibili A visitare E conoscere Il santuario Del Beato Sante Il santo che si è formato In questo luogo Di contemplazione Ma anche perché Questo edificio Ha un'importanza Anche architecconica Artistica Quindi oltre Alla devozione A parte di Gesù C'è anche una parte Artistica Quindi molti Vengono a vedere Queste opere D'arti Come C'è un crucifisso Sopra l'altare Che è del 1300 Della squadra senese La festa inoltre Sarà anche Un'occasione Per osservare I vari tipi di piante Presenti all'interno Dei sentieri Del bosco Attraverso Le spiegazioni Delle guide Attività didattiche Invece Saranno messe A disposizione Da circa Una cinquantina Di studenti Dell'istituto agrario Cecchi di Pesaro Che oltre ad avere Ripristinato La segnaletica Nel bosco Nelle due giornate Metteranno a disposizione Dei presenti Una mostra Dei prodotti tipici E un laboratorio Creativo Di coltivazioni Di semi I nostri ragazzi Saranno presenti Anche sabato E domenica Con lo stand Della scuola Venderemo I nostri prodotti Li presenteremo Noi abbiamo Un'azienda agraria Qui a Pesaro Che produce Olio Vini E aceto E poi faranno Questi laboratori Didattici Per i bambini Anche delle scuole Quindi un laboratorio Di taleagio Un laboratorio Di semina Sarà possibile Insieme a loro Preparare Delle piantine Per il divertimento Un po' Di tutti Abbiamo presentato Questa festa Anche come buona pratica Sul territorio Per la promozione E l'incentivazione All'amore per l'ambiente E alla salvaguarda Del territorio A Pesaro Matteo Ricci Annuncia Attraverso un video Pubblicato Su un social network Che l'interquartiere Arriverà Fino all'ospedale Di Muraglia E che la bicipolitana Si allungherà Altra opera fondamentale Che realizzerà Società Autostrada E la bretella Di Santa Veneranda Il cantine deve partire Entro la fine del 2019 Anche da qua Dal lavatoio Dalla strada Che c'è da Pontevalle E poi Taglierà Più o meno Al cartello D'ingresso Di Santa Veneranda Tagliando dietro Le case che ci sono Ed evitando Che le macchine Vadano dentro L'arco di Santa Veneranda E via Bonini Questo ci consentirà Di rivedere La viabilità Di Santa Veneranda Dei prossimi anni E al tempo stesso Collegherà questa strada Al casello Di Santa Veneranda La bretella Di Santa Veneranda Arriverà qui Per collegarci Al nuovo casello Unidirezionale Per andare a sud E per uscire da sud Per andare a nord Continueremo ad usare Attraverso gli interquartieri L'attuale casello Che rimarrà quello principale Ma attraverso questo casello Saremo molto meglio Collegati a sud E stiamo lavorando In maniera determinata Per iniziare il cantiere Entro il 2020 E priva di chiudere il telegiornale Una curiosità Una fotografia Ve la facciamo vedere subito Che ci ha postato Sulla nostra pagina Reporter di strada Uno dei 6.000 reporter Che sono iscritti Si tratta di una piantina Di una pianta da frutto Nata sulla banchina Del porto di Fano Nel post Piuttosto simpatico Il nostro reporter Scrive Abbiamo anche i fichi di mare Che non sono quelli Che passeggiano a Lido Ma quelli che nascono Da questa piantina In un angolino Del porto Il telegiornale finisce qui A seguire uno speciale Dedicato ai 40 anni Di taekwondo Di Calcinelli Nel comune di Colli Al Metauro E poi un approfondimento Della redazione Con il bilancio Di questi anni Della fondazione Con Fabio Tombari Che è stato presidente Per 15 anni Grazie per essere stati con noi Il numero per le vostre segnalazioni Lo vedete in sovraimpressione Noi ci vediamo domani mattina Alle 7.30 in diretta Con la Rassegna Stampa Arrivederci